Fujitsu World Tour 2014 Incontriamo Massimo Dorazio, titolare di Datamate assieme a Gianfranco Allegrucci Partner storico di Fujitsu sul mercato italiano Chi ha Datamate e qual è il vostro ambito di attività? Datamate esiste da 30 anni, per cui è sempre la stessa azienda che è nata da me e dal mio socio Oggi conta di 32 unità più noi Da sempre siamo i testimonial, prima Nixdorf, poi Siemens, poi Fujitsu Siemens e oggi Fujitsu Per cui una delle nostre caratteristiche positive, speriamo che sia così, è che siamo monobrand Per cui vendiamo solo l'unico marchio che è Fujitsu, dai notebook, dalla parte workplace fino ai server e storage Grazie 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 Grazie